L'enogastronomia per Fano è diventata un'azione attrattiva dal punto di vista turistico fondamentale, tanto quanto lo è l'arte, la cultura, il paesaggio, l'ambiente. Ecco, uno dei cultori ovviamente di questo settore è lo chef Antonio del Ristorante al Mare. A Ristorante al Mare è in atto una serie di incontri focalizzati su un prodotto tipico della nostra marineria che attira tante tante persone. Di che cosa si tratta? Qual è il prossimo incontro a questo riguardo Antonio? L'anno scorso abbiamo cominciato con una verticale di alici, è un menu che si distribuisce con antipasti primi e secondi. Questa volta viene il turno della soglia distribuita sempre alla stessa maniera con antipasti primi e secondi e poi ne verranno anche altre. In base alla stagionalità, in base al periodo, diamo sfogo alla nostra voglia di fare per proporre comunque un pesce locale con sfaccetture diverse tra gli antipasti e gli altri piatti. Il pane è particolarmente nota per il pesce azzurro, il pesce turchino, il pesce povero. La sogliola è una qualità un pochino superiore che ha una delicatezza diversa ovviamente dal pesce azzurro al pesce grasso. Come lo state trattando? Qual è il modo di cucinare questo pesce? La sogliola, come giustamente diceva, è un pesce estremamente delicato con la sua personalità e il suo sapore. Cerchiamo sempre di lasciare, di rispettare il più possibile la materia prima, accostandola eventualmente a ortaggi di stagione che comunque ne esaltino il suo sapore già naturale. La sogliola in questo periodo è abbondante, quindi il pesce che secondo me si presta di più in questo momento la stiamo trattando in vari modi, la sfilettiamo e poi la accostiamo a varie cotture, una delle quali è classica mugnaia, quindi farina rosolata in un burro chiarificato con un goccio di limone, poi verrà accostata una riduzione di pollo e delle rosoline che sono diciamo delle erbette sempre stagionali, selvatiche. Il giovedì prossimo il menù si conclude con la pelle di sogliola, caffè e mascarpone. È un dolce? È un dolce, sì, abbiamo pensato comunque che la sogliola potesse anche rientrare in un contesto così, diciamo, diverso dal solito, utilizzando soltanto la pelle che viene disidratata in forno e poi soffiata come fosse una cialda, quindi questo mascarpone, questa sorta di tiramisù avrà questo elemento marino che è principalmente la parte salata del dolce che andrà a completare un po' la degustazione.